Un saggio d'opinione su Gian Yaman e la fragilità della fama. I commenti sia sulla vita personale che sulla carriera di Yaman rivelano questa fragilità. Cancelletto fatti di fama e recitazione. Gian Yaman ha iniziato la sua carriera come avvocato, ma in seguito si è dedicato alla recitazione. Sebbene sia diventato famoso per la prima volta con la serie tv Gonulisler, ha fatto la sua svolta con la serie tv Arkangicus. Questa serie gli avvalsa una vasta base di fansia in Turchia che all'estero. La sua armonia con il suo partner Demetho Sdemir è stata vista come un fattore importante per il successo della serie agli occhi del pubblico. Se tra i due esista una relazione sentimentale è sempre stata motivo di curiosità per la stampa scandalistica. Tuttavia, oltre alla recitazione, c'è un altro aspetto di Gian Yaman che viene costantemente messo all'ordine del giorno dai media, la sua vita personale e le interviste che rilascia. Yaman è diventato oggetto di critiche a causa delle dichiarazioni che faceva di tanto in tanto. In particolare le discussioni su ciò che dice sulle donne e sulla sua posizione dietro i personaggi che interpreta, lo prendono in considerazione non solo come attore ma anche come figura. Questa è un'indicazione delle pesanti responsabilità che derivano dalla fama. Cancelletto rapporto con Demetho Sdemir e After. Una delle relazioni più discusse di Gian Yaman è stata la sua relazione con Demetho Sdemir, il suo partner nella serie TV Archangicus. Oltre al successo della serie, l'alchemia tra i due, riflessa sullo schermo, è stata percepita dai fan come se avessero una vera relazione. Tuttavia, nel tempo, si è scoperto che questa relazione è rimasta solo sullo schermo. Anche se si dice che non esiste alcun legame romantico tra Yaman e Sdemir, nei media ci sono state continue speculazioni su questa relazione. Il punto che attira l'attenzione qui è quanto siano state efficaci tali relazioni nella carriera di Yaman. Gran parte del suo successo nella recitazione è stato attribuito alla sua armonia con il suo partner. Tuttavia, questo successo nella carriera di Yaman è stato sostituito nel tempo dalle critiche. Perché la fama non è solo una questione di talento, ma anche di immagine che si proietta nella società. Sebbene Demet Özdemir sia costantemente all'ordine del giorno con la sua relazione con Yaman, è anche riuscita a fare passi importanti nella sua carriera. Il talento recitativo e la fiducia in se stesso di Özdemir lo hanno aiutato a tracciare la sua strada. Forse uno dei maggiori handicap di Yaman è che è associato a un personaggio forte e indipendente come Özdemir. Perché questa relazione rappresenta costantemente una pietra miliare nella carriera di Yaman. Cancelletto il test di Yaman con i media. Mentre Yaman stava rapidamente scalando i gradini della fama, non riusciva sempre a controllare il suo rapporto con i media. Yaman, che ha una grande base di fan soprattutto in Italia, è stato spesso all'ordine del giorno qui e per un po' è diventato anche uno dei preferiti dei media italiani. Tuttavia, questa attenzione portata dalla fama non è sempre stata positiva. Yaman ha suscitato grandi reazioni, soprattutto con le sue dichiarazioni sulle donne. I suoi commenti sui suoi rapporti con le donne furono considerati da molti rispettosi e sessisti. Questa situazione ha portato Yaman a essere messo in discussione non solo come giocatore ma anche come persona. Perché ogni affermazione di un personaggio famoso, soprattutto di uno così visibile, crea una grande ripercussione. Il modo in cui Yaman gestirà questo processo è visto come un fattore che influenzerà direttamente il corso della sua carriera. Cancelletto il mondo e la fragilità di Yaman. La fama è un grande obiettivo per molte persone. Ma mantenere la fama è molto più difficile che raggiungerla. Mentre Yaman era alapice della sua carriera, di tanto in tanto divenne il centro delle critiche a causa degli errori che commise e dei messaggi sbagliati che diede. Le sue dichiarazioni, soprattutto nei confronti delle donne, lo hanno portato a essere giudicato non solo come attore ma anche come essere umano. Forse è a questo punto che emerge la più grande vulnerabilità di Yaman, la fama può lasciare in pace una persona ad un certo punto. Non importa quanto grande sia il successo e la base di fan, il rapporto con se stessi è sempre la cosa più importante. Questa solitudine si è fatta sentire di tanto in tanto nella carriera di Gianni Yaman. Ad esempio, essere costantemente seguito dalla stampa scandalistica, vedere ogni suo passo criticato e ogni sua affermazione distorta potrebbe aver esercitato una grande pressione su Yaman. A questo punto, il modo in cui Yaman dirigerà se stesso e la sua carriera sarà determinante per il suo futuro e successo. Perché non solo il suo talento recitativo, ma anche l'immagine che riflette nella società come figura avrà un ruolo importante nella sua carriera. Cancelletto guardando al futuro. Il futuro di Gianni Yaman potrebbe essere molto diverso da quello in cui si trova oggi. Per quanto tempo Yaman, che attualmente ha una vasta base di fan e fama internazionale, sarà in grado di mantenere questa fama? La risposta a questa domanda dipende interamente dallo stesso Yaman. Se impara dai suoi errori in questo processo, indirizza la sua carriera nella giusta direzione e presenta alla società una figura più rispettosa e matura, può continuare il suo successo. Ma per il resto, sappiamo tutti che la fama è una cosa temporanea. Un nome che oggi è ai vertici potrebbe essere dimenticato domani. Il modo in cui Gianni Yaman dirigerà la sua carriera a questo punto determinerà se sarà permanente o meno. Cancelletto conclusione, il prezzo della fama. Gianni Yaman è un attore che sperimenta sia i lati belli che quelli difficili della fama. Gli errori commessi nella sua carriera, il suo rapporto con i media e l'immagine che rifletteva nella società sono stati i fattori determinanti della sua carriera. Tuttavia, la pressione della fama potrebbe rappresentare un punto di svolta nella carriera di Yaman. Se riesce a gestire correttamente questo processo e a tracciare una direzione per la sua carriera e per se stesso, i suoi successi possono continuare. Di conseguenza, Gianni Yaman potrebbe essere uno degli attori più famosi in Turchia oggi. Tuttavia, il tempo dirà cosa accadrà in futuro e quale percorso seguirà. Il prezzo della fama è sempre alto e solo Yaman sa quanto sia pronto a pagare questo prezzo. . 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